Consumo di latticini, precedenti di lesioni cerebrali traumatiche come in chi pratica box o altri sport di contatto, sviluppo di melanoma, esposizione a pesticidi, oltre ovviamente all'età che avanza, essere maschietti e avere ereditato una specifica predisposizione genetica dai propri genitori. Questi sono i fattori di rischio più noti correlati allo sviluppo di morbo di Parkinson. E per inciso, sì, è capito bene, il consumo di latticini è stato associato a un modesto aumento del rischio, però se pensi che invece la caffeina è un fattore protettivo, direi che puoi continuare tranquillamente a godere del cappuccino al mattino. Eppure da un studio recente pubblicato su JAMA Neurology emerge come uno stile di vita sano sia costruito anche, forse ancora prima di tutto, sul benessere interiore, perché dimostra l'esistenza di un altro importante fattore di rischio, la solitudine. No, in realtà non è una novità assoluta, sono diversi gli studi che in passato hanno esaminato il legame che c'è tra solitudine e malattie neurodegenerative o più in generale sul rischio di mortalità per tutte le cause. E attenzione, parliamo di paper pubblicati su riviste del calibro di Nature, BMJ, JAMA, non il Gazzettino di Paese. Torniamo a noi. Gli autori dello studio, condotto presso la Florida State University, ma che annoverano anche italiani e mi fa piacere ricordarlo, è stato condotto valutando quasi 500.000 adulti inglesi di età media di 56 anni, senza precedente diagnosi di Parkinson, nell'arco di 15 anni di vita. Durante questo periodo sono stati circa 2.800 i soggetti che hanno poi sviluppato morbo di Parkinson. È un'analisi più approfondita, è emerso come questi fossero tendenzialmente più vecchi, in maggioranza maschietti, con peso medio più elevato e affetti da vari disturbi principalmente cardiovascolari, ma anche altri, tra cui ansia e depressione. Questo in realtà non stupisce più di tanto, anzi, conferma il fatto che purtroppo la gran parte delle malattie dei Paesi occidentali sostanzialmente condivide tutti i fattori di rischio e che, volendo malinconicamente sdrammatizzare un po', beh, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ma la ricerca in questione era studiata per valutare nello specifico il legame tra solitudine e rischio di sviluppare morbo di Parkinson, correlazione che non solo è emersa, ma che rimane anche una volta controllati i fattori demografici, socio-economici e di salute. In questo contesto, controllare un fattore significa fare in modo di escluderne l'eventuale influenza. Ora la domanda sorge spontanea, perché succede? Posto che studi di questo tipo possono solo evidenziare correlazioni, ma non legami di causa-effetto, le ipotesi sul banco sono diverse e comprendono ad esempio il fatto che l'associazione potrebbe essere conseguente a fattori di rischio condivisi tra solitudine e Parkinson e non adeguatamente controllati, ad esempio predisposizione genetica o condizioni di salute mentale che potrebbero favorire sia l'isolamento che lo sviluppo di Parkinson. Un'altra possibile interpretazione è che l'insorgenza dei primi sintomi di Parkinson favorisca un progressivo isolamento, ovvero che ci sia sì una sorta di causalità, ma inversa, legata ai sintomi non motori come depressione, apatia, facile affaticamento. La solitudine favorisce poi sicuramente l'adozione di comportamenti poco sani, sedentarietà, dieta poco attenta, però l'interpretazione più probabile, almeno secondo gli autori dello studio, è tuttavia da cercare nello sviluppo di disturbi metabolici, infiammatori e neuroendocrini. Ovviamente un'ipotesi non esclude le altre, anzi le alterazioni biochimiche potrebbero essere legate a doppio filo alle conseguenze viste, attraverso una sorta di pericolosa spirale che si autoalimenta. La buona notizia è che l'incremento del rischio è comunque modesto, estremamente modesto, 3 casi ogni 100.000 persone, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che questa è solo una delle numerose correlazioni dimostrate tra solitudine e stato di salute, e forse dovremmo quindi imparare a vedere le connessioni sociali proprio come una qualsiasi altra buona abitudine relativa allo stile di vita, proprio come l'attività fisica e la necessità di un abbondante consumo di frutta e verdura. Con grande umiltà il mio consiglio è quindi di rifugire attivamente la solitudine, quella malinconica intendo, e con una visione un pochino più ampia ad operarti per stare accanto a che si trova a suo malgrado in condizioni di isolamento, anche perché se ci pensi si tratta di una situazione win-win, ovvero dove ne beneficereste entrambi. Devo per caso ricordarti l'abbondante letteratura disponibile sui benefici personali dell'attività di volontariato? Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia, nel mio piccolo rimango a tua disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive, ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire nel tuo medico curante, nel tuo neurologo. Grazie ancora, ciao! 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 Ciao!